Grazie a tutti Grazie a tutti Una governance con un management completamente rivisitato nel visual, nell'impatto perché e soprattutto che cosa darà? La nostra mission indubbiamente al di là della vendita è il servizio. Servizio nella post vendita, servizio anche nella fase d'acquisto e soprattutto consulenza finanziaria. Vogliamo proporre ai nostri clienti, al di là delle classiche formule finanziarie, anche le formule di noleggio, leasing, full leasing e finanziamento. Autoseninissima nasce tra l'altro con un'immagine che sposa l'azienda Land Rover Range Rover di un'immagine completamente nuova che crei un elemento di distacco dal passato. Assolutamente sì. Questo è un nuovo corso dettato anche dall'arrivo di questi nuovi prodotti, in particolar modo la neonata Range Rover Evoque ed è un'auto che si distingue in questo momento per quanto riguarda la forma esterna, gli interni e le prestazioni. Range Rover ricordo che è il brand di lusso all'interno del marchio Land Rover. Stefano, che tipo di prodotto è Land Rover e Range Rover? È un prodotto premium. Il prodotto premium viene inteso un prodotto con un contenuto di grande spessore. Ciò non significa che deve essere solamente l'auto di grande spessore ma bensì anche la concessionaria autoserienissima. Abbiamo deciso di dedicare uno spazio al marchio Land Rover e Range Rover con una struttura specifica dedicata a questo nostro cliente. Tante novità in arrivo in quest'anno 2012 o restavano che tu ci dvelassi o ci dessi qualche anticipazione di queste grandissime novità? Il marchio sta lavorando in questa direzione. Con i prossimi saloni vedrete i nuovi arrivi e le nuove vetture. Autoserienissima si trova in via Orlando 45 a Mestre, Venezia e per dare un'indicazione la strada verso l'aeroporto località Campalto. www.autoserienissima.it www.autoserienissima.it